Cambiamo decisamente pagina e tono, lo facciamo parlando di un festival, 9-11 settembre, tre giorni a San Ferdinando di Puglia, città natale di Fernando Di Leo, icona del noir del poliziesco italiano, si tratta di un festival indipendente, è il primo cinematografico della Valle dell'Ofanto, intanto con noi c'è Giuseppe Memeo che è direttore artistico, ben trovato, grazie per essere con noi. Buonasera a lei. E' non solo il primo della Valle dell'Ofanto ma è anche il primo che rende merito alla pugliesità di questa colonna. Sì, è una manifestazione che è alla primissima edizione e che rende omaggio a un personaggio storico, un regista straordinario. Io lo inserisco tra i migliori registi pugliesi che la nostra cinematografia ci abbia regalato e che purtroppo non possiede una memoria storica forte è proprio nel paese dove lui è nato, San Ferdinando di Puglia, nonostante gli innumerevoli meriti che gli vengono riconosciuti anche da registi internazionali quali Quentin Tarantino tra gli altri. Senz'altro la manifestazione alla prima edizione comprende tantissimi giovani all'opera, ma anche il supporto delle tre proloco di San Ferdinando, Margherita e Trinitapoli unite assieme alle istituzioni, con un'unica idea, quella di valorizzare sia Fernando Di Leo ma anche un territorio come quello Fantino, carico di risorse turistiche meravigliose che saranno possibili visitare proprio durante il festival nei tre giorni. Tra l'altro succede nel cinquantenario di Milano Calibro 9, con la proiezione di Calibro 9 che è il seguito ufficiale, con Luke Merenda presente e tra l'altro con titoli che all'epoca sono stati divisivi e fonte di discussione, penso a Il Poliziotto e Marcio, Uomini si lascia, Poliziotti si muore, insomma una serie di pellicole che all'epoca hanno fatto discutere e che hanno quel filo conduttore. Esattamente, sono stati poi riscoperti, lo sappiamo bene, dopo il cameo di Tarantino a Venezia che ha discusso, insomma, ampiamente rivalutando tutti questi film, ma proprio Il Poliziotto e Marcio è stato per più anni censurato e provocò l'ira, insomma, di Fernando che criticava quelli che si mettevano in bocca a sciascia mentre lui faceva i film quelli davvero critici nei confronti della politica e della polizia. L'altro valore aggiunto è che è un festival attrazione giovanile, lo fa avendo come direttore artistico un giovane, poi in Italia siamo giovani tutti fino al contrario, però è un giovane che mette a disposizione un patrimonio intanto ai più giovani e poi però il pubblico è nettamente più largo. Sì, noi siamo tanti, siamo giovani e abbiamo un'idea di fondo. Com'è nata questa passione? Io di base sono un regista e sceneggiatore, fin da quando avevo 20 anni ho scoperto per la prima volta Fernando Di Leo, nato a San Ferdinando, che ha ispirato Quentin Tarantino, non mi è bastato sentire altro, ho capito benissimo fin da subito il potenziale. Poi quando ho trovato le persone giuste per mettere in piedi questa manifestazione non ci abbiamo pensato di due volte, perché spinti da un'idea, un'idea di comunione, un'idea di appartenenza, perché un paese che non ha radici legate a Fernando Di Leo, che viene citato ogni giorno in tutto il mondo, ma non a San Ferdinando, è un paese che non ha appartenenza, è un paese che non ha appartenenza, ne ha quello che ha. Questi sono aspetti sociali, culturali, che danno una rivalutazione totale del territorio in cui si vive e che servono solo per un motivo. Insieme siamo più forti e possiamo avere un cambio di mentalità. Questo è il nostro obiettivo a medio e lungo termine. Te ne aggiungo un'altra telegrafica e poi ci salutiamo, tra gli sceneggiatori non accreditati di titoli come per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. E qua ti faccio sognare, perché ti dico un altro aneddoto. Per un pugno di dollari hanno collaborato sia Fernando Di Leo che Michele Lacerenza, originario di Trinitapoli, a pochi chilometri da San Ferdinando, era il trombettista che Morricone scelse di suo pugno constatando che nonostante Sergio Leone volesse un altro trombettista. Quindi sempre quell'idea di unione di due personaggi che hanno collaborato a uno dei film più grandi della storia del cinema, nati entrambi nella Valle dell'Ofanto. 9-11 settembre, noi ci saremo. Buon lavoro direttore, bocca all'uomo. Grazie mille a tutti e grazie per l'attenzione.